Parlare di mezzogiorno significa parlare del futuro dell'Italia. Ne è convinto il presidente nazionale dello Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, Adriano Giannola, relatore del convegno promosso dalla scuola Toniolo, all'auditorium Celestino V della Curia Arcivescovili a Campobasso. L'Italia, continuato Giannola, è andata giù per il crollo dell'economia nel mezzogiorno. Occorre cambiare verso in un paese da 30 anni in stagnazione e da 10 con una crisi devastante. Le sfide sono il mezzogiorno, far riprendere l'economia nel mezzogiorno e con questo contribuire alla ripresa dell'Italia nel sistema europeo, perché il nostro destino europeo è l'area euro-mediterranea, quindi dobbiamo allearci con gli altri che hanno interessi comuni e rovesciare queste tendenze assurde che ci stanno portando alla deriva, avendo delle idee in testa. Il tema del convegno dunque mezzogiorno d'Italia e Mediterraneo oggi davanti alle nuove sfide, quali le strategie da adottare per cambiare verso l'economia del paese e da dove partire? Da una grande politica di logistica integrata che rimetta l'Italia come porta d'ingresso in Europa da sud, oggi il Mediterraneo è al centro dei traffici mondiali, si entra attraverso il Mediterraneo in Europa dalla Cina, dall'India, dal Vietnam e si esporta rispetto a questi attraverso il Mediterraneo, però per approdare in Europa si va fino a Rotterdam o Hamburgo, quando si potrebbe approdare a Gioia Tauro, a Napoli e a Taranto e entrare in Europa da sud, almeno per tutta quella parte d'Europa che più naturalmente si rivolge a quest'area. Un concetto contestualizzato al Molise, al porto di Termoli, dal rettore e merito dell'Università Telematica Pegaso Giovanni di Giandomenico che ha coordinato i lavori dopo l'introduzione di Antonio Chiatto, direttore della scuola Toniolo. Essendo l'unico porto dell'Adriatico che può espandersi con una vasta area retrostante, non avendo naturalmente un nuovo porto, un porto canale alle foci del Bifeno, avendo alle spalle tutta la zona industriale e non la città come Bari, Ancona, Pescara eccetera. E quindi potrebbe essere un formidabile motivo di sviluppo. Le conclusioni affidate all'Arcivescovo Bregantini. Grazie. Grazie.